Ciao ragazzi! Io sono una persona molto curiosa, vorrei sapere tutto, mi piacerebbe sapere tutto, frequentare tutti i seminari del mondo, leggere tutti i libri del mondo e guardare tutti i documentari del mondo. Però, eh sì, c'è un però. Dov'è il confine tra sana curiosità e dipendenza dalla curiosità? Dall'obbligo, dal dover fare qualcosa, dal dover fare sempre una cosa in più. Come ormai abbiamo imparato, tutte le dipendenze avvelenano il nostro karma, quindi che fare? Come sempre la risposta è molto semplice e banale, ma la strada per arrivarci è molto meno, anzi è decisamente faticosa. La mia personale soluzione che ti propongo è, ogni volta che ti viene in mente la milleunesima cosa da fare, fermati, ti siedi sei minuti, chiudi gli occhi, respiri e pensi, ho davvero bisogno di fare questa cosa? Questa cosa veramente creerà benessere e maggior felicità nella mia vita? Questa cosa mi serve davvero o è semplicemente un loop mentale? Poche attività, ma ben fatte e ben meditate. Namaste.